La via Lido è chiusa al transito dall'alluviona dello scorso mese di novembre e tra le diverse questioni oggetto di dibattito comincia ora ad indurre a qualche fondata preoccupazione in vista dell'avvicinamento della bella stagione. Ricordiamoci che il ponte Cansalamone continua a non essere transitabile e che anche la viabilità nei pressi della contrada Foggia è fortemente condizionata dalle conseguenze del maltempo. A farne le spese anche il ponticello sul torrente San Marco, che ufficialmente sarebbe interdetto al traffico, anche se c'è chi lo attraverso ugualmente a bordo del proprio mezzo di trasporto, incurante della presenza delle transenne. Il punto centrale della questione riguarda essenzialmente l'oggettiva impraticabilità di troppe arterie stradari tra quelle che avvicinano alla contrada San Marco, dove si trova un'ampia porzione del litorale Saccense, regolarmente balneabile. Se a queste difficoltà si aggiungono poi quelle relative allo stato in cui, e non certo da oggi, ogni anno si viene a trovare la via Ulisse, la prima strada di accesso verso la costa, le prospettive sembrano tutt'altro che incoraggianti. Siamo ormai in primavera e non sembrano esserci avvisaglie significative di interventi possibili o immaginabili. Quella che viene fuori è dunque un'autentica emergenza viabilità, che peraltro è da tempo anche sollevata dalle associazioni dei cittadini, ma anche da parte delle rappresentanze degli albergatori. Da quanto pare di capire degli attesi interventi della protezione civile sulle vie che sono state danneggiate dal maltempo, non c'è ancora alcuna traccia. Il calendario è impietoso, tanto più che prima dell'estate ci sono anche le giornate primaverili, quelle comprese tra le feste di Pasquetta del 25 aprile e del 1 maggio, giornate nelle quali tradizionalmente le gite fuori porta conducono anche alle spiagge. Probabilmente dunque bisogna intervenire al più presto per cercare di ripristinare una parvenza di normalità. Intanto ci sono lavori in corso lungo la statale 115 e l'altezza della notissima ma anche vulnerabilissima galleria Belvedere nota per le infiltrazioni di acqua che ogni anno ne rendono necessaria una manutenzione urgente. L'intervento tuttora è in corso al momento ha costretto gli operai dell'ANAS a disciplinare il traffico da e per agrigento attraverso la collocazione di un semaforo alternato. Questo sta generando lunghi incolonnamenti con inevitabili disagi, disagi che sono notevolmente aumentati per i residenti nelle zone Isabella, Sant'Antonio e Sovareto che, come si sa, dal giugno dello scorso anno sono costretti ad osservare un altro semaforo alternato, quello situato sul ponte, sul torrente Bagni, teatro dell'incidente mortale costato la vita del dottor Mauro Granata. Insomma, l'ingresso e l'uscita di Sciacca, se non per chi non transita abitualmente dalla città, per chi abita nella zona periferica d'est del perimetro urbano, è sicuramente una vera e propria odissea. Anche sul ponte Bagni oltretutto i lavori non riescono proprio a partire. Si confida quantomeno che l'intervento sulla galleria Belvedere da parte degli operai dell'ANAS abbia termine al più presto possibile.